In testa c'è Thibaut Pinot con il letto di Scrims, sembra avere la meglio Scrims, è in prima posizione l'atleta della 3 che si aggiudica la prova davanti a Thibaut Pinot che è secondo come l'anno scorso, terzo è Peter Tienaug, quarto è Frank, quinto è Kederman, sesto è ricoperto Ura Primo Scrims, secondo Pinot, terzo Tienaug, quarto è Frank, quinto è Kederman, sesto Ura In settimo posizione numero 116, Julien Simon